Ora togliamo le viti, le stazioni. Togliamo i connettori, uno, due, tre, togliamo le stazioni, attenzione a non navigare il tamburo quando si tolgono, poi togliamo la primaria e quindi dobbiamo togliere prima. Con il connettore qua sopra. Poi togliamo la lama di pulizia. Ecco mi raccomando prima di togliere questa girare sempre questo di qua. Adesso togliamo la maschetta. E anche tutti e due. Ecco. 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 Quando si toglie questo, attenzione, questa parte qua ci va scoperta. Adesso dobbiamo togliere le tre viti. e poi togliere le tre viti. e poi togliere le tre viti. Abbiamo questa qua centrale. A questo punto prendiamo qui, tiriamo, il tamburo si sfila, adesso lo appoggiamo bene al buio e controlliamo se è pulito o sporco, poi lo rimontiamo con le operazioni al contrario.